qui c'era questo sistema di contromossa in cui il gancio sconfigge il press però look sconfigge il gancio una serie di concatenazioni non ho visto questo video di conseguenza non stiamo facendo figa di merda sta ridendo di noi il gancio una serie di co ci ha messi in imbarazzo adesso dobbiamo recuperare fa lascia fare a me scusa per il mio ospite non voleva mancare di rispetto quello che stava dicendo lui era una cozzaia cinese di quello che è il braccio di ferro ma in realtà hermes è qui per spiegarci in cosa consiste hermes si dissocia insomma da quanto capisco io non ho mai sentito carta forbice sasso non era una metafora un paragone per cui se tu attacchi con un press l'avversario gioco di carte io riporto quello che mi hanno comunicato non è che tirà fuori l'ascio la briscola mi dissocio allora io io guarda mi zippo parla il maestro ora cos'è il braccio di ferro allora braccio di ferro poi poi facciamo un specific prodotto che si è termino quel coloro riporto la strada bologica ballastoglare Bologica Bologica Grazie a tutti.